Alle nostre spalle la caserma Romagnoli, decine di migliaia di metri quadri di terreno che potrebbero essere restituiti ad usi agricoli o a parco pubblico e decine di migliaia di metri cubi di edifici in stato di abbandono che potrebbero essere restituiti ad usi sociali. È uno spreco che non ci possiamo più permettere in un'Italia dove il consumo di suolo ha raggiunto livelli ormai incredibili, 8 metri quadri al secondo negli ultimi 50 anni di media, dove il dissesto idrogeologico ci ricorda che non possiamo più proseguire su questa strada. Chiediamo che questi spazi vengano recuperati, restituiti alla comunità, che vengano evitate operazioni speculative come quelle dei centri commerciali o dei parcheggi e per questo oggi eravamo in tanti a chiedere che recuperiamo gli spazi che già esistono nelle nostre città e significativo anche spazi oggi a 100 anni dall'inizio della prima guerra mondiale, ex spazi militari che possono diventare invece incubatori dove costruire un futuro migliore per le nostre città.